Pervenire in tempi brevi al censimento di tutti i siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali contenenti amianto. È il primo obiettivo del piano comunale amianto finalizzato a fotografare la situazione e prevenire smaltimenti illeciti con conseguenti abbandoni di rifiuti contenenti amianto che possono diventare fonte di diffusione di fibre, posto che è necessario salvaguardare la salute dei cittadini dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto come previsto dalla legge regionale numero 10 del 2014. Il vice sindaco del comune di Gela fa il punto della situazione sull'avviso pubblicato dal comune di Gela proprio sulla questione amianto. Abbiamo avviato la procedura per la redazione del piano amianto e il primo passo era proprio il censimento ufficiale di tutte le aree in cui sono presenti delle discariche o manufatti, impianti, parti di impianti in amianto. Il censimento significa coinvolgimento delle imprese che hanno ancora delle parti in amianto, le aree pubbliche di competenza dell'amministrazione comunale o comunque degli enti pubblici e sicuramente le aree private, quindi dei cittadini che possono avere ancora dei contenitori di acqua in amianto o dei manufatti in amianto. Quindi questo avviso che è stato pubblicato serve per consentire al cittadino, che ovviamente ne ha l'obbligo, come prevede la legge regionale, di autodichiarare l'amianto in possesso e nel caso in cui fosse friabile o in condizione di dover essere smaltito, per evitare problemi sulla salute, di adempiere a quello che prevede la legge, cioè di adempiere ai passi per la rimozione. C'è un modulo da scaricare sul sito del comune o comunque affisso all'albopretorio, basta compilarlo, presentarlo via pecco o comunque agli uffici comunali competenti per autodenunciare la presenza di amianto. Potrà anche rivolgersi il cittadino che non è in grado da solo di capire come funziona la procedura per lo smaltimento e rivolgersi ai vostri uffici per maggiori chiarimenti al di là del modulo? Sicuramente gli uffici sono già stati predisposti per poter dare le informazioni del caso e quindi dare tutto il supporto necessario. Grazie.